Perché una giovane poetessa come Asia Vaudo, scrittrice poetessa, si concentra sull'amore degli anziani. C'è una volutà del tempo perduto, del tempo andato? O c'è forse un'indagine sull'amore e quello che resta? Questo Storie dei vecchi Dipane che ha fatto Asia è un libro stranissimo, è un libro dove appunto si mette in scena e si indaga con acume e con anche una certa disperazione e speranza, il tempo e l'amore. Storie di vecchi Dipane è un testo che parla del tempo, del tempo con la T maiuscola e vede dei vecchi come degli scrigni nei quali è racchiuso il senso ultimo del tempo. Ed è un libro che in modo gentile e molto delicato, credo, parla della memoria. Della memoria che è contenuta sempre nelle anime degli anziani, dei vecchi, come mi piace chiamarli. Ed è un racconto, è il racconto di un racconto e indaga nella dimensione di quella che io chiamo la vecchiaia e non vecchiaia. Perché la vecchiaia contiene tutte le rughe del mondo in tutte quelle zeta. Perché io amo giocare con le parole, amo sentire il loro suono, i loro suoni e guardare come il mondo riesca spesso a cascare dentro le parole e come riesca a prendere la forma delle parole. E secondo me non c'è niente di più bello nel mondo di essere creativi e donare una piccola storia agli altri. Storia di vecchi e di pane parla di due vecchi innamorati, parla dell'amore che si fa quando si è vecchi e parla anche però di una dimensione di bruttezza che scandisce il vecchio. Perché il vecchio non è soltanto tenero, non è soltanto fatto di pane, con la sua pelle morbida, i suoi occhi liquidi. Ma il vecchio è anche a tratti disgustoso perché alla fine della sua vita non riesce più a camminare, sputacchia, fa i grottini, come scrivo, vomita, è ubriaco. E quindi io cerco di entrare, scandagliare in questo animo del vecchio che è sempre stato per me estremamente affascinante perché innanzitutto, prima di tutto perché è contenitore di storie. E poi appunto si ripete molto spesso il concetto di circolarità del tempo che finisce nella vita di un vecchio e poi ricomincia nella vita di un bambino neonato. E questo è sempre stato un pensiero che mi ha dato conforto davanti alla paura della morte. E quindi c'è questa volontà di parlare ancora d'amore, in modo anche disperato a volte, di parlare di tenerezza e lo faccio attraverso appunto la forma del prosimetro. Questo libro indossa la forma del prosimetro. Il prosimetro è l'insieme di versi e di prosa, proprio perché ho sempre amato giocare. Alla fine tutte le cose più belle e più vere forse nascono dalla volontà di giocare, dalla volontà di non prendere troppo sul serio la vita, le cose, cercare di scavalcare anche degli schemi stabiliti, spesso molto rigidi o irrigiditi da noi stessi, codificati, aridi. E quindi ho cercato appunto di viaggiare seguendo la mia visione di quella cosa, perché quando scrivo ho sempre in mente visivamente le immagini che poi racconto e che tramuto in poesia o in prosa. Tutte le immagini di cui io parlo le vedo, sono palpabili davanti a me. Buonasera a tutti, io sono Roberto Pavoni e sono l'illustratore del bellissimo libro di Asia Vaudo, Storie di vecchie di pane, a cura di Lamberto Fabri per i quaderni del Circolo degli Artisti. Allora, io ho illustrato questo piccolo tascabile, questo volumetto tascabile, con veramente un grande piacere, un grande gusto, perché intanto è stata una lettura affascinante, molto evocativa, e poi in qualche maniera questa lettura ha accompagnato un po' quello che è in qualche modo il mio stile personale, perché le immagini che mi sono tornate alla mente, anche un po' la memoria, se devo dirla tutta, nel leggere questo prosimetro di Asia Vaudo, sono state immagini che poi con facilità sono riuscite a riprodurre, anche piuttosto speditamente, perché mi hanno ricordato un'ambientazione dell'altrove, che si trova al di là, nel mondo del pensiero, della memoria, del ricordo, e in qualche modo, spinto, o forse è meglio dire sorretto da alcune parole del testo, mi sono lasciato andare ad una pittura molto leggera, molto liquida. Le immagini sono molto liquide in questo libro, perché le parole del libro mi hanno accompagnato verso questa liquidità. È un libro affascinante, è un libro che parla di memorie, è un libro che parla direttamente al cuore, e le immagini che ho voluto inserire vogliono essere veramente un piccolo omaggio alle parole di Asia, che accompagnano in qualche maniera, in modo assolutamente discreto, questo sentimento, questo sentire del testo. Ho utilizzato essenzialmente un acquerello, una tecnica d'acquerello, mischiata con altri colori, che vuole muoversi veramente al margine delle parole, colori scarichi, pallidi, ecco, forse sarebbe meglio dire pallidi, che come se fossero in qualche maniera vissuti nell'ambito di una memoria lontana, di un'evocazione distante, che però focalizza attraverso un'immagine, quasi sempre una sola immagine secca, semplice, il senso del discorso di Asia Vaudo. In qualche maniera mi è sembrato giusto omaggiare questo libro utilizzando la semplicità, perché attraverso la semplicità e la precisione nella descrizione di un'immagine ho trovato che si potesse rendere effettivamente l'onestà del libro stesso, onestà intesa proprio come capacità di descrivere onestamente, con un sentimento, un trasporto, che è quello del poeta, che è quello del prosatore, le parole che Asia ha pronunciato, ha scritto in questo bel libro. La cura di Lamberto Fabri è, come al solito, di altissimo livello. Lamberto è un editore che fa molta attenzione ai dettagli, questo è un bellissimo volumetto tascabile, pieno di cura, dalla scelta della carta alla scelta del carattere, fino proprio all'appel che si ha nel leggere, nel tenere fra le mani questo piccolo volume. Lamberto ci ha anche omaggiato di questa sovracopertina, all'interno del quale mi ha chiesto di fare un'illustrazione che in qualche maniera un po' sintetizzasse lo spirito del testo e che in qualche modo omaggia proprio appunto l'intera narrazione. Le sovracopertina sono tutti quanti firmate, con firma autografa mia, perché così Lamberto ci ha chiesto di fare. Devo dire che è stata un piacere collaborare, insomma, alla realizzazione di questo piccolo gioiellino dell'editoria italiana. Il testo di Asevaudo è un testo ricco, è un testo che lascia la traccia, lascia una traccia veramente di ricchezza dopo la sua lettura e che rimane nella memoria e credo che queste mie immagini possano in qualche maniera aiutare a prendere ancora più coscienza del percorso mnemonico che il testo ci racconta. Io sono sempre molto fiero di far parte di questi progetti, dei quaderni del Circolo degli Artisti, con Lamberto Fabri, con Asia Vaudo, con altri grandi autori, poeti, perché trovo che la qualità tecnica, stilistica, formale di questo tipo di editoria sia probabilmente oggi quasi scomparsa completamente, inarrivabile e quindi farne parte significa conservare quello spirito dell'arte colà a maiuscola. Grazie Asia, grazie Ramberto, grazie Asia anche per questo libro che è veramente bellissimo e al quale ho lavorato con grande piacere e del quale mi faccio vanto di aver partecipato sostanzialmente. Grazie, un saluto a tutti, arrivederci. Sono state realizzate 99 copie di questo libricino molto bello, tascabile. Ogni copia è firmata da me, da Lamberto e da Roberto. Cosa devo dire? Sicuramente che io sono estremamente grata ed eternamente grata all'editore Lamberto Fabri per aver creduto in me e nella forza delle mie parole. E poi sono grata a Roberto perché oltre ad essere un pittore estremamente bravo e meraviglioso e anche un grande amico con cui condivido questo viaggio della vita. La cosa più bella del Cenacolo delle Arti è che si creano rapporti, connessioni umane, sincere, autentiche e io sono grata alla vita e a Dio per aver così tanti alleati lungo il mio cammino, non solo persone con cui condividere appunto materiale artistico ma proprio materia di vita, la sostanza più profonda delle cose, dialogare con loro sulla vita, sulla bellezza, sulla morte e sostenerci nei momenti belli, nei momenti brutti. Cercare sempre di scambiarci la luce, sfogliarci come se fossimo anche noi forse un po' dei libri che vanno indagati, vanno conosciuti e rispettati.